Anche il Movimento Consumatori Toscana entrerà nel procedimento relativo alla vicenda Cheu, costituendosi parte civile nell'udienza preliminare fissata per il prossimo 12 aprile. L'inchiesta è quella della DDA di Firenze per traffico illecito di rifiuti relativa allo smaltimento di scarti tossici delle concerie, il cosiddetto Cheu, e per il coinvolgimento di aziende riconducibili a cosche di Andrangheta dell'area di Catanzaro, 24 alle persone per le quali è stato richiesto il rinvio a giudizio. Questo componente, che sembra tanto lontano dalle nostre vite, in realtà potrebbe essere ovunque, persino nelle case che abitiamo, si legge in una nota dell'associazione. Al di là della vicenda giuridica, ci preme ricordare come la Regione Toscana abbia stanziato ben 15 milioni per procedere con le bonifiche che tali somme di denaro siano state rese disponibili al commissario Vadalà. Ma siamo davvero sicuri, si interroga l'associazione, che il Cheu si trovi solamente nei distretti oggetto di bonifica? Chi ci dice che questo prodotto non abbia raggiunto anche le case dei consociati? Speriamo che il commissario abbia effettuato una ricostruzione dei siti in cui è presente il Cheu. Situazioni di questo genere, conclude la nota, devono essere affrontate con decisione e celerità, sia per la salvaguardia dell'ambiente che per la tutela della salute delle persone. Non accettiamo compromessi che potrebbero costare la vita degli individui. A costituirsi parte civile anche il comune di Buccine, proprio in questo territorio ci sono infatti dei siti inquinati scoperti dai carabinieri forestali nell'ambito delle indagini. Lo scopo è quello di ottenere il risarcimento di tutti i danni morali e materiali nei confronti di coloro che saranno riconosciuti responsabili. Grazie a tutti.